si sa che vada a veli si è un po di spinghio di chi sta più condenti di pop tutorial italia bentornati qui sul nostro canale qui il vostro enrico de marco oggi studieremo insieme un nuovissimo pezzo il suo nome è visualized siete pronti bene ragazzi visualized oggi per voi e iniziamo in questa maniera allora io oggi con te roma cercherò di dare maggiore importanza a rumori e a battute che ho utilizzato all'interno del pezzo dato che il conteggio è molto lento e noi faremo dei passaggi molto veloci quindi i numeri saranno frazionati tra un 4 e un 5 divisi in diversi e che a volte diventano anche antipatici da contare quindi penso di agevolarvi in questo modo comunque partiamo gamba destra braccia che allargano in questo modo e partiremo al one questa volta facendo one and seven eight gamba destra che allarga insieme e fai one che allarga in questo modo quindi gamba sinistra bella piazzata sul pavimento e le braccia che spingono seven eight one da qui subito vado a chiudere spostando le mie braccia verso le spalle e la gamba destra che torna sulla sinistra da qui ragazzi spingo la gamba sinistra verso verso il lato sinistro spingendola qui in diagonale facendo in effetti la stessa cosa che ho fatto sulla destra le mie braccia spingono verso il basso e faranno e in questa maniera quindi il lavoro delle gambe sarà gamba destra che ritorna sinistra appoggia e allarga la gamba destra nel finale con la chiusura delle gambe in questo modo quindi quando arriviamo con le gambe qui faremo questo lavoro e vediamo con calma solo le gambe seven hit step one and two and three wow e scendo giù uniamo adesso le braccia faremo questo lavoro quindi spingo chiudo stendo e apro le mie braccia e chiudo verso i fianchi up spingo lì allora da qui guardate le mie dita come sono fatte da qui le sposto sul labbro inferiore e poi quello superiore facendo questo perché nella musica sentirete lips che significa appunto labbra quindi da qui andiamo a spingere mentre spingiamo come se ci volessimo passare non lo so una crema sulle labbra scendiamo verso il basso boh ok ancora lento five six seven e trento spingo e mi piego ragazzi quando vado a piegare le mie braccia salgono leggermente verso l'alto mentre i miei ginocchia scendono verso il basso d'accordo quindi scendo in questo modo ed è una sospensione come se fosse una slow motion d'accordo di nuovo alento five six seven and one and two and three d'accordo ancora lento seven eight one and two and three and up cosa succede qui le mie braccia incrociano and up seven eight cross and up vado in chiusura seven eight boom click click qui sarà velocissimo il lavoro che sarà unito alla mia gamba sinistra che farà tallone seven eight la mia gamba destra fa un piccolo passaggio ok quindi tallone gamba sinistra apro scendo anche con il mio corpo punta e passo qui sulla gamba destra le mie braccia in contemporanea faranno questo e d'accordo lento ancora dall'inizio five six seven eight step one two and a three and a ancora lento seven eight and a boom avete visto questa costruzione scendo verso il basso e vado il cambio d'altezza ragazzi è fondamentale da dinamica estetica al nostro lavoro quindi preparazione atletica per salire e scendere se avete difficoltà un po di squat vi possono aiutare five six seven eight step one and click click ci siete lo so un pochino rapido se avete difficoltà lo sapete potete sempre dovete sempre tornare indietro con il nostro video ma ripetiamolo ancora lentamente insieme seven it's a boom one two and three and up da qui four and five guarda cosa succede qui semplice mio busto apre fa angolo sinistro click spingo verso l'alto scendo giu crack le mie braccia questa volta non fanno nulla noi siamo arrivati qua aprono e fanno vedere il petto quindi fanno click le mie gambe seguono il lavoro del mio busto facendo gamba sinistra gamba destra e scendo niente boh ok quindi da qui la mia gamba si allarga prima sinistra diagonale nel vostro punto otto e poi qui nel vostro punto sei di nuovo 5 6 7 3 che punto 4 perdone 7 e d'accordo il mio busto invece lavorerà a tre tempi e sarà fu fai chi siete ancora lento 7 fu fai la difficoltà sarà chiaramente della velocità perché il lavoro in effetti è semplice di nuovo piano dall'inizio 5 6 7 it's a boom su i e a 3 e a 4 e fai chi siete ragazzi ancora così 6 7 e boom ti di di ti di pom 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 queste sono le battute che ho utilizzato da qui andremo a lavorare in questo modo i gomiti salgono verso l'altro le braccia scendono verso il basso le dita aprono crack 7 e da qui insieme le mie gambe faranno chiusura insieme alle mie braccia quindi faranno un salto e quindi le mie braccia saranno giu e na 7 e il braccio destro in questo modo chiuso pugno sinistro invece piegato vedete in questo modo da insieme alle mie gambe che faranno boom clic clic quindi sarà chiudo salto e la sinistra è parallela alla spalla sinistra invece la destra leggermente più in avanti 7 e insieme alle braccia click e na da qui se direte crash e vado a spostare il mio braccio destro in questo modo curvando insieme alla mano insieme al ginocchio della gamba destra spostando il peso direttamente sulla gamba destra d'accordo cosa sarà la mia forma rivediamolo con calma partendo da questi boom 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 for in file for in file six e na 7 e nei da qui il mio braccio destro farà and hate quindi una web che va prima indietro e poi va avanti quindi più che una web si tratta è una web però dobbiamo cercare di lavorare in questa maniera che normalmente non avrebbe fatto così partendo dalla spalla invece questa volta partiamo dal google facendo e di nuovo lento 7 hate boom boom clic scendo e quasi in contemporanea vado spingo subito e quello voglio fermo e da qui sentirete a 7 che poi in realtà sono più di state di ispirazione perché non riesco a prenderli entrambi perché da lì ci sarà un 7 8 che sarà 8 e 1 che sarà lo stesso rumore che abbiamo ascoltato prima quel boom 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 quindi da qua salgo e scendo giù con il bacino roll 7 guarda come faccio questo roga sul lato destro e spingo il peso dalla destra alla sinistra quindi torsione di bacino rolling gambe sempre aperte da questo passaggio spingo verso l'alto wow ci siamo sarà tutto collegato 8 e 1 8 e 1 siete 7 e 3 clic 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 3 bounce 3 pop quindi 3 blocchi che dobbiamo andare a fare nei tre tempi quindi primo a mezz'aria metà le spalle sotto verso il basso tutto facendolo pressando il mio piede sul lato sinistro sulla punta del piede quindi pressione 7 e boom 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 per chi non riesce a fare fermi così importanti sulla gamba sinistra basta bloccare le braccia ok l'effetto non sarà lo stesso ma simile 7 e boom 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 e scendiamo verso il basso attenzione a non caricare sulla colonna quindi lavoriamo sui muscoli d'accordo rivediamola con calma dall'inizio 7 8 step 1 2 e n a 3 e ha 4 e 5 6 e 7 and 8 1 2 3 and 4 da qui ragazzi andiamo a continuare and 5 questo passaggio ti di di braccia da questa posizione spostano e fanno da si da semplice sarà anche fermo dopo questi tre blocchi blum 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 da qui faremo sta questa posizione facciamo cliccan7 7 8 tididi da questo punto sariamo suبano come se andassimo a prendere qualcosa quindi il destro che avvicina a sinistra è il mio corpo che si sposta leggermente in diagonale viptun basta maniera fa rivediamo la con calma dall'inizio lo ripetiamo il contigio cerchiamo di lavorare un po più sulle battute per dare un po più di simili tv no quello che può sarà l'effetto musicale. Five, six, seven, eight, boom, ti di di, ti di di, boom, 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 and a click, ta-da, and ha, boom, 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 ti di di, va tutta lì. Ci siamo? Ancora lento? Chiaramente la velocità non è questa, ragazzi. Ancora five, six, seven, eight, boom, ti di di, ti di di, click, 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 and a ha, ta-da, wave, boom, 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 ta-da-da, click. Andiamo avanti da qui, prima di iniziare a lavorare sulla musica, faremo questa, questa occhiataccia solo faccia, quindi da qui faremo, guardo la spalla, guardo sotto l'ascella, e guardo poi la mia anca sinistra, seven, eight, ti di di, più che guardare l'anca sinistra, cerco di guardare il piede, quindi la direzione è questa, sette, hand, hand, boom, e voglio che lo sguardo ci sia, quindi guardo, 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 da questo, guardo, guardo, guardo la gamba destra, rimbalza all'indietro, facendo questo, wow, cap, seven, eight, tu-du-du, ha, il mio braccio resta, ha-ha-ha, boom, da qui vado a chiudere per andare a prendere di nuovo quelle battute, boom, 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 seven, eight, chiudo gamba sinistra su destra, braccio va, boom, hand, chiudo con il gomito, ha, da qui il mio braccio destro però resta qui, l'ho mosso adesso ma non è giusto, boom, qui in questa maniera, d'accordo? Rivediamolo con calma partendo da, parte nuova da questi, da qui salgo con le braccia facendo, click and up, che sarebbe lo stesso che abbiamo visto prima quando abbiamo fatto questo, boom, 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 stesso tempo, tererep, da qui chiudo, cap, e guardo, sinide, sinide, ha, questo è proprio un rimbalzino, come se fosse il mio sguardo che fa muovere il mio piede, quindi farò sinide, ho, ha, da qui sento le battute, fa, seven, eight, ten, one, seven, and, eight, hand, one, d'accordo? Di nuovo lento, seven, ta-da-da, rimbalza, and, chiuso, spingo, ha, d'accordo? Allora ripetiamolo con calma e diamo un senso già a questi primi passaggi, five, six, seven, eight, seppo, boom, hand, ti-di-di, click and up, base, 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 giù, boom, ha, hand wave, sali, hand, ti-ti-ti, click and up, boom, ha, ha, hand, bam, 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 ci siamo? Bene? Continuiamo il nostro lavoro ragazzi, da qui, seven, eight, le mie braccia faranno, he, ha, he, quindi da questo punto, il braccio sinistro che spezza il polso, il destro che spezza allo stesso modo, ma le direzioni saranno diverse, quindi da qui faccio sinistro su, e destro che va indietro, he, ha, he, fino al polso, seven, eight, he, ha, he, e sarà all'atterraggio, quindi one, he, and a, set, he, ha, seven, eight, boom, ti-di-di, fermi con il resto del corpo, quindi faremo boom, 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 ti-di-di, ok? In nuovo lento, set, and, partiamo da questo, and chiuso, abbiamo fatto questa apertura, boom, click, key, ta-da-da, set, and, ta-da-da, da qui vado con il mio gomito sul lato destro, boom, battuta, che schiaccia il lavoro, quindi qua sentirete, ta-da-da, shah, allungo, and, ha, braccio, boom, in effetti come ho lavorato, in una maniera lirica, e l'abbiamo fatto in questa maniera qua, lui dirà, set, and, take this time, guarda cosa faccio con le mani, il mio braccio sinistro allarga, noi siamo in questa posizione, sinistro che allarga qui, non è steso al massimo, è leggermente piegato, ok? In linea con la spalla, da qui take this, il mio indice, il braccio destro, è al centro della mia mano, take this time, cosa ho fatto qui? Io ho pensato ad una clessidra, nella mia fantasia questa era una clessidra, però diventa un passo per noi, questo è solo il perché l'ho scelto di fare questo momento, questo passo diciamo, e faccio take this time, il mio pollice è in mezzo qui alle mie dita, vedete? In questa maniera qua, quindi da qui faremo take this time, da qui le mie braccia girano, il destro va verso l'alto come se fossero l'accetta di un orologio, invece il sinistro ruota dall'altra parte, and, si incrociano e fanno, ha, butto via, eh, sette, figo, sette, and, da questo punto faremo take this time, time, boom, di nuovo lento, seven, eight, take this time, boom, seven, eight, take this time, boom, il mio corpo invece fa poche cose, in realtà da qui saremo in questa posizione, faremo take niente, this, chiudo, time, chiudo, giro, ha, e guardo sul lato sinistro, quindi sarà take this time, boom, seven, eight, take this time, boom, da qui, call me, non è chiaro quello che dice nella musica, non ho letto la traduzione, però sono arrivato a questo concetto di mi finale, quindi da questo punto allargherò il mio busto verso l'alto, eh, la gamba sinistra che va e apre, eh, spingo il petto verso l'alto, boom, vado indietro e faccio questo lavoro qui, mi, il mio busto quindi farà e, ha, boom, e piega semplicemente, le mie braccia invece faranno, ha, ha, boom, questo mi dà un incasso al mio lavoro, quindi mi, e spingo via, tocco il petto e da qui, le mie braccia vanno leggermente in avanti per dare più volume al mio busto, invece il mio busto piega andando all'interno sulla schiena, senza però andare a piegare troppo le gambe, quindi farò questo, un po' questo disequilibrio qua, eh, spostando il peso sui talloni, d'accordo? Allora io penso che sia il momento giusto per iniziare a pensare alla musica, quindi vediamo un attimo di ricapitolare tutto, la prima sessione non è finita ancora, però utilizzare la musica a questo punto secondo me è utile, hm? E vediamolo con calma, five, six, seven, hey, boom, see your lips, see your boom, 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 take the tap, da da click and bounce, 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 da da da, click, da da da, boom, 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 da da da, click, take this time, you, hand, ha, me. Questo è più o meno il tempo. Allora prima una cosa che ho detto, che invece no, non è proprio corretta, take this niente, time, è con questo che vado a chiudere, ok? Quindi da qui, sette, e faremo take this time, da qui ruoto, spingo, guardo nel lato, hand, ha, me, d'accordo? Come va? Ci siete con la memoria? Ancora lento due volte così, poi lo faremo a media velocità e poi insieme veloce per poi provare con la musica. Five, six, seven, eight, boom, see your lips, see your boom, 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 ti di cap, na na way, hum, tum, 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 da da da, click, see your lips, hand, ta, 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 da da, click, take this time, hand, call me. D'accordo? Come va? Allora facciamo così, per concludere, per concludere, mi, fermiamoci qua, fermiamoci qua sulla musica e poi li vediamo da qui, che ne dite? Come è andata? Mi avete seguito? L'ultima volta insieme, five, media velocità, five, six, seven, eight, boom, ta, da da, click, 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 ta, da, e, ha, ta, da, wave, ha, dum, 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 ta, da, 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 t, di, di, ha, boom, 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 do, 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 take this time, hand, ha, ha, mi, ci siamo? Se mi avete seguito a questa velocità potete già iniziare a pensare a proiettarvi sulla musica, altrimenti tornate indietro e riguardate il lavoro con più calma. Per adesso lo faremo due volte, io ve lo mostrerò una prima e voi lo lavorerete con me la seconda volta, ma attenzione poi a tornare indietro e a ripeterlo tante, tante volte, perché altrimenti dopo diventa troppo lungo e confusionario per concludere la prima sessione che ho pensato per voi oggi. D'accordo? Quindi digetaci la musica e seguitemi, vai! Prima parte, questo è molto bello, freestyle, slow motion, quello che volete, senti la musica. Oppure, magari le prime volte è meglio evitare, ma rimanete un po' più fermi per sentire la musica e per evitare di sbagliare. Occhio al maestro e poi programmi insieme. Seven, eight. Come è andata? Piaciuto? Spero di sì. Siete pronti a fare una volta insieme a me? Diamo un po' più di intensità a questo mi, perché mentre nella coreografia il pezzo continuerà, ma per ora che ci siamo fermati e lavorandolo sulla musica, dargli un po' più di intensità è importante. D'accordo? Poi dopo invece lo taglieremo un po', sarà questo mi che parte subito. Insieme? Siete pronti? Vai! Musica DJ! Relax qui. Vai! Non ce l'ho fatto a tutto continuare. Bravi ragazzi, complimenti. Se mi avete seguito siete stati veramente una bomba. Bene ragazzi di Pop Tutorial Italia, per oggi questa parte finisce qui, ma se volete continuare il lavoro insieme a me, insieme a Urban Dance Secret, con me e il maestro Massimiliano, noi ci vediamo qui al primo commento. Cliccate, iscrivetevi e prendete le informazioni per entrare a far parte della mitica Urban Dance Secret e continuare insieme a me la coreografia. Per oggi è tutto da Enrico De Marco e alla prossima. Ciao! Ciao!